Bomba dell'ultimo momento appena confermata a Milano. Rimarrete stupiti da ciò che è stato annunciato. Ma prima di parlarvene, voglio che vi piaccia per avere tutte le ultime notizie dai rossoneri. Il Milan ha un sacco di lavoro da fare se vuole assicurarsi il rinnovo di Mike Magnan con alcuni dei migliori club, europei in circolazione, sostiene un rapporto. Secondo TMV, il Milan sta già guardando al futuro e sta cercando di assicurare a Magnan un contratto a lungo termine, ma il francese è ricercato da mezza Europa e l'idea di un'accessione non può essere completamente esclusa. Se non hai ancora lasciato il tuo like, fallo ora per continuare a ricevere notizie dai rossoneri. Secondo la fonte, il Paris Saint Germain cercherà di ingaggiarlo con una grossa offerta al Milan, cosa che chiaramente riguarderebbe anche il futuro di Gianluigi Donnarumma. Ma un ritorno in rosso-nero non è in discussione. Anche il Chelsea e il Bayern Monaco sono interessati a Magnan, con quest'ultimo che sostituirà Manuel Neuer quando si ritirerà a breve. I Blues hanno acquistato Robert Sanchez dal Brighton in estate, ma sembrano pronti a dare un nuovo assalto a Magnan. Nel frattempo, il Milan sta lavorando a un nuovo contratto per contrastare questo interesse. L'idea è di prolungare il contratto fino al 2028, ma Magnan e il suo entourage chiedono uno stipendio mostruoso, pari a quello dei giocatori più pagati del campionato. Vogliono tra i 7 e gli 8 milioni di euro, a fronte di un'offerta al momento molto più bassa da parte del diavolo. L'Exlil guadagna attualmente 3,2 milioni di euro netti a stagione e la dirigenza sarebbe disposta a raddoppiarli al massimo. In scadenza nel 2026, c'è tempo per discuterne, ma i proprietari Redbird Capital dovranno accelerare il processo per non creare un'apertura che altri club possano sfruttare. Amati tifosi rossoneri ora tocca a voi cosa ne pensate Magnan resta al Milan di temelo nei commenti lasciando il vostro like e iscrivetevi al canale per continuare a ricevere le prossime notizie sul Milan.